Alla SAC, Società di Gestione dell'Aeroporto di Catania, si è aperto il toto candidature per chi rivestirà il ruolo di presidente. L'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che vede come presidente Gaetano Mancini, è infatti in scadenza di mandato e da alcune settimane a Catania è forte la fibrillazione per scegliere la nuova guida nella gestione dello scalo etneo. La politica è in fermento per trovare il nome e la persona adatta a diventare il successore di Mancini, ma a rompere gli equilibri dei partiti ci pensa un cartello di associazioni che ha proposto la candidatura di Francesco Tanasi. Il segretario del Codacons ha accettato la sfida e se sarà eletto promette rigore, risparmio e stoppa gli sprechi. Prima di tutto è una candidatura proposta da un gruppo di associazioni e anche di operatori aeroportuali. Io ho accettato, naturalmente l'impegno è da subito di rinunciare ai benefit, all'auto blu, all'indenità che sarà data in beneficenza e subito tagliare dal primo giorno le consulenze che comportano una spesa di un milione e mezzo di euro, sostituire subito, fare una rotazione dei dirigenti e dei funzionali e naturalmente aumentare la qualità dei servizi aeroportuali. Da Ragusa arriva un appello importante affinché comunque la SAC, che fa parte della SOACO, si impegni per l'apertura di Comiso. C'è anche questa volontà da parte sua? Ma questo non può essere altro perché io sono già stato amministratore dell'aeroporto di Comiso, quindi mi sono abbattuto per circa tre anni per l'apertura di Comiso. E quindi da possibile presidente della SAC non farà altro che dare seguito a quanto avevo già programmato.